le note del silenzio ciao ragazzi eccomi qui con un altro gameplay assassin's creed unity ho iniziato a giocare oggi e voglio riprendere con voi questa missione che non ho mai fatto cioè devo andare dentro Notre Dame ho già fatto un altro video esplorativo di Notre Dame e ve lo lascio qui e devo trovare due calici mi dice che è una missione molto difficile io ho iniziato oggi a giocare e sono proprio agli inizi quindi direi di cominciare a vedere come va sappiate che sicuramente già sarò rimpicciolita mi sarò messa da qualche parte per permettervi di guardare meglio il tutto allora cominciamo non ci saranno scene fastidiose in teoria non lo so ma nel caso diciamo che non ci saranno se dovessero esserci lo preciserò poi e scrivendolo qui all'inizio dunque cominciamo allora devo andare su quel puntino verde per chi non avesse mai visto questo gioco ci troviamo a Parigi nel 1776 no non è vero più là nel 1776 è stato ucciso il papà del personaggio principale che si chiama Arno comunque siamo a fine 1700 vediamo un po' ok siamo arrivati già quindi in teoria questa Notre Dame vediamo un po' si è la parte eccola lì ok è la parte laterale di Notre Dame ci troviamo sulla parte sinistra sarà un po' buio questo video perché non sto utilizzando luci bene dunque vediamo un po' ok dobbiamo introdurci all'interno mamma mia queste campane suonano fortissimo passiamo un po' io non amo particolarmente anzi quasi per niente giocare con la musica dei videogiochi anzi mi infastidisce quasi che cos'è quel lucchetto sto scoprendo con voi questo gioco non ho l'abbinità scassinatore sì perché ho voluto per forza farla questa missione ma in realtà lui mi aveva detto che sarebbe stata molto difficile dai su mi devo ancora abituare con questi con questi comandi perché dovete sapere che io sono una fissata con assassin scritto perciò il portachiavi però il punto è che ero sono sempre stata tanto tanto affezionata al personaggio di Ezio e quindi in un modo o nell'altro non ho mai voluto giocare ad altro ho giocato un po' Origins non mi piace per niente quello proprio proprio per niente anche una finestra aperta quello sulle navi mamma mia sono negata col con le navi cioè con tutto quello che riguarda l'acqua allora la morte è quello che c'è scritto lì sopra dunque dunque devo trovare questi calici è lì e eccoli là ok ed ovviamente è pieno zeppo di guardie ma questo mi sembra scontato insomma altrimenti non sarebbe una missione difficilissima vediamo un po' come riuscirò a cavarmela in realtà non so fare davvero nulla perché vi ripeto ho appena iniziato a giocarci ok uno si trova qui sotto precisamente lì sì vabbè ecco me lo prendo questo il nostro scopo è ovviamente non farci beccare bene allora intanto muoviamoci silenziosamente proviamo ok questo è andato ma sembra decisamente troppo facile ripariamoci da questi eh adesso per arrivare là dietro la vedo un po' complicata io come ho detto nell'altro video non ho idea delle facce che 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 ho durante questi momenti suppongo delle facce abbastanza buffe arnuno ti prego ti devi arrampicare dobbiamo andare via da qua ok non possiamo andare via da qui temo ah ok basta fare questo certe volte questo gioco mamma mia guardate la grafica di questo gioco e guardate più che la grafica proprio la c'è stupendo io è stupendo questo gioco è stupendo guardate i dettagli c'è il confessionale qui non so ci entro è fantastico fantastico scusate ma io oltre ad amare i videogiochi amo la bellezza e amo questa chiesa quella è una guardia no è una guardia in pausa pranzo quella è una guardia in pausa pranzo quindi non mi fila venimamente ok allora questo sta questo si trova nella parte posteriore delle guardie quindi adesso se io ci entrassi da oh no non ci posso entrare da qui allora proviamo a saltare a salire qui non mi ci fa salire proviamo a salirci dalla colonna non mi ci fa salire dobbiamo ragionare allora eh però dai no non ci vuol salire sui trappi dobbiamo fare in modo di salire qui sopra ah con le sedie che stupida non le avevo proprio filate le sedie qui non mi ci fa andare penso invece si è completamente nuova ha una giocabilità incredibile rispetto a vabbè a Ezio che è vecchissimo ma è il mio amore ok il mio amore nel senso che è la mia passione ok parla con il sacerdote devo andare a parlare con il sacerdote questa missione è difficilissima boh forse perché non ho mai giocato Assassin's Creed mi pare difficilissima comunque meglio così allora andiamo a parlare con sto benedetto sacerdote per restare in tema con sto benedetto sacerdote ah questa è una cosa comparata oggi no aspettate aspettate devo applicare gli insegnamenti di oggi vediamo se riesco mamma mia un espertono questo che cos'è beh quindi ah il montacarichi no non dovevo usarlo sto montacarichi visto che siamo qui andiamo a prendere qualcosa nello scrigno comunque nel nel forziere non so come chiamarlo che si troverà sicuramente non a questo piano figuriamoci oh madonna non so se posso dire madonna quindi mi chiedo scherzo allora dove starebbe questo dovrebbe segnalarmi a meno che non sia ancora più in su dovrebbe segnalarmi il forziere non so come chiamarmi lo scrigno vabbè non me lo segnala poco male andiamo a parlare con il sacerdote che si trova sicuramente fuori dalla chiesa perché mi sembra davvero molto piccolino il puntino verde sulla mappa adesso devo essere in grado di ritrovare la finestra aperta perché altrimenti da qui non esco ho questo presentimento no scusate cioè 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 questo gioco che cos'è non si vede perfettamente perché momentaneamente non sono in grado di registrare direttamente dalla tv perché non ricordo come si attiva quel cosettino che ti permette di registrare dalla tv e quindi mi sono semplicemente ingegnata registro con un cellulare la mia faccia e con l'altro cellulare la tv questo è il motivo per il quale la definizione non è così bella come la vedo io a me quello che vedo io è praticamente un film sì ma io già sto salendo in sto andando a finire non so dove per uscire da questa benedetta chiesa ok ok siamo all'aria ed ecco a voi Paris in tutto il suo splendore dunque direi che adesso siamo sul rosone guardate questo gioco va bene direi che adesso scendiamo e andiamo dal sacerdote Arno devi scendere ah ho fatto direttamente il salto della fede bene dunque mentre la gente qui protesta e tanto noi andiamo a cercare il signor sacerdote di questa missione proprio tranquilla così allora 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 dov'è? qua chissà cosa ci dirà il signor sacerdote entriamo nel covo ah sta nel covo ok qui è dove ho avviato la missione si sono un seguace di Baphomet partecipa al rito la parola d'ordine è padre della comprensione e noi andiamo a fare questo rito il padre della comprensione dobbiamo partecipare al rito non so in che modo mi faccia partecipare a questo rito proviamo ad andare a questo rito sarà vediamo un po' sarà 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 questo no questo è un altro ricordo e voglio andare a partecipare al rito qua ah no sono io questa qui allora Notre Dame il rito andiamo a partecipare a questo rito dai così vi ho fatto una vera e propria abbiamo fatto una vera e propria missione completa insieme dunque veramente qualcosa di molto molto tranquillo sono contenta di aver iniziato a registrare per questa missione perché appunto non c'è niente di che vi può infastidire anche per chi non dovesse amare particolarmente il genere allora ops ogni tanto è normale investire gente purtroppo però è un gioco insomma voglio dire ecco qua siamo arrivati al rito intanto vi mostro ops mamma mia che spettacolo vi mostro la senna bella bella la smetto di dire bello l'ho detto tipo 800 volte forse si trova qui dentro il rito e appunto la prossima missione è il rito di bafume siccome sarà un po' un po' più movimentata di quello che pensavo direi che il video può finire qui anche perché la durata è giusta spero di avervi intrattenuti di avervi rilassati se vi piacciono i gameplay ditemelo se avete qualche gioco che amereste vedere sul canale ditemelo lo stesso perché adesso ho iniziato Assassin's Creed ma c'è unity ma ce ne sono tanti altri di giochi che vi potrebbero piacere e niente oppure altri Assassin's Creed ditemi voi vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao